Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e questo video sarà come al solito quando c'è una presentazione o ci sono delle performance ufficiali di una componente hardware interessante, sarà molto molto breve. Vi dico che oggi dalle 15 saremo online sul canale Twitch di MV Hardware. Marco ha accettato di fare una collaborazione con me per andare a cercare un pochettino queste fantomatiche e molto 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 interessanti RX 6800, RX 6800 XT. Marco cercherà di comprarne una, io nel frattempo mi informerò su Benchmark Performance e ci faremo una scorpacciata assurda di dati per vedere se effettivamente quest'anno AMD merita più di Nvidia. Sappiamo che ci sono tantissimi leak per quanto riguarda le performance delle nuove schede grafiche di casa AMD ma beh, io credo che un benchmark ufficiale comunque, dei risultati ufficiali, possano davvero far cambiare idea a molte persone. E, se posso essere sincero, se i benchmark dovessero essere davvero tanto tanto buoni, come i leak ci dicono, forse potrei anche io cambiare idea riguardo la mia 3080. Boh, chi lo sa. Vi aspetto oggi sul canale Twitch di MV Hardware, ovviamente il link sarà in descrizione, e vi voglio belli carichi. Ciao belli! Ciao!